E' stato un coro unico quello dei Poo. I compagni di Una Vita hanno annunciato insieme la scomparsa dello storico batterista della band più famosa e amata. Stefano Dorazio si è spento a Roma, aveva contratto il coronavirus, lui che già stava combattendo la battaglia contro un'altra malattia. Abbiamo perso un fratello, abbiamo perso un compagno di vita e lasciare che una persona se ne vada così da solo credo sia ancora più crudele della morte stessa. Non un fratello di quelli che ti trovi già fatti in famiglia, ma un fratello acquisito durante la vita, durante la vita insieme. E' Poo sono fratelli, ma Stefano era forte, era speciale, era unico. Ha scritto una delle mie canzoni preferite, La Donna e il mio amico. Non mi dire niente, starmi ad ascoltare. Sono troppe da, che ci dormo male. Il mondo della musica e dello spettacolo esprime il suo dolore. Barbara D'Urso, testimone di nozze del batterista, scrive Io per te ero Ursus, tu per me, Orazio, hai visto crescere i miei figli. Tutti ne ricordano il sorriso. Fausto Leali, Eros Ramazzotti, Amedeo Minghi, Raff, Enrico Ruggeri parla di una persona piena di energia positiva. Quell'energia oggi devono raccoglierla i suoi fratelli nella musica. Grazie a tutti.